Musica Nel 2012 in Italia sono stati venduti circa 3 milioni e mezzo di e-book per un giro d'affari che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il numero è in forte crescita rispetto alle 900 mila copie scaricate nel corso dell'anno precedente, ma paragonato ai dati degli altri paesi, evidenzia dimensioni ancora molto limitate per il settore. Gli attori della filiera si sono quindi dati appuntamento al Museo della Scienza di Milano per discutere delle prospettive future e confrontarsi con i maggiori esperti di nuove tecnologie. Questo è un mercato che è nato da meno di due anni, di conseguenza è normale che questi numeri siano piccoli. È un mercato destinato a crescere molto rapidamente e chiamarlo un settore cacciacrisi sarebbe molto bello. Certamente molte persone che escono dall'editoria trovano nel digitale delle opportunità per sviluppare nuove attività e nuove iniziative. Al centro dell'incontro l'integrazione della tecnologia con dati e contenuti. Tre concetti dai quali, secondo gli organizzatori, trae origine il nuovo corso dell'editoria e dai quali derivano le principali opportunità per gli attori della filiera. Viviamo in un'era digitale e in questa nuova era gli editori hanno compreso che l'industria dei contenuti ha lasciato il posto all'industria dei servizi connessi ai contenuti. Sempre di più la gente acquisterà contenuti in base ai servizi connessi e questo impone un radicale cambiamento del nostro modello di business e un radicale cambiamento del modo di produrre contenuti e servizi per offrire un nuovo tipo di esperienza ai lettori. Secondo Bob Stein, fondatore dell'Institute for the Future of the Book, il digitale potrebbe rappresentare un'importante opportunità di rilancio per l'editoria anche se le condizioni del mercato in Italia non sono ancora pronte per fare il grande salto. Le industrie editoriali italiane sono protette dalle leggi che impongono limiti, ad esempio all'ingresso di Amazon. Il portale americano potrebbe essere un ottimo volano per un rapido e consistente sviluppo dell'editoria elettronica anche grazie alle politiche di abbattimento dei prezzi. Ma al momento questo non è possibile. Gli editori italiani però possiedono una lungimiranza ed un livello di conoscenza superiore a qualsiasi altro paese e sono convinto che in pochi anni l'Italia sarà in grado di raggiungere i massimi livelli.